Risorse per il potenziamento del punto nascite dell'ospedale Locatelli di Piario. Penso che è inutile che mi dilunghi, quasi tutti i colleghi Bergamaschenon hanno chiesto potenziamenti di quegli ospedali che hanno visto saltare i loro punti nascita almeno nei progetti del Ministero e quindi mi sembra serio, siccome anche il Presidente Maroni l'ha annunciato, che si intervenga con delle risorse vere andando a supportare quelle strutture, andando a rinnovare quelle strutture, andando portando nuovo personale e adeguando anche numericamente il personale visto che spesso quelle strutture soffrono di carenza non solo infrastrutturale o non per forza infrastrutturale ma soprattutto di risorse umane, quindi non mi dilungo di più.